Il Comune di Forlì ha presentato un programma di interventi finalizzati alla riqualificazione di edifici pubblici e dal miglioramento dell'arredo urbano. Si tratta di un investimento da 16 milioni di euro, di cui più di 8 provenienti dal Ministero. Come evidenziato dall'assessore ai lavori pubblici Francesca Gardini, tra i progetti più consistenti si colloca quello del campus universitario. È un progetto per il restauro e il risanamento conservativo dei due padiglioni di Sauli Safi che ad oggi sovvertono in stato di degrado e attraverso i quali sarà possibile completare completamente l'intervento del campus universitario. È un progetto da circa 9 milioni e il contributo del Comune è di 3 milioni e 8. All'interno di questo programma di interventi tra gli altri si trovano il restauro delle sale studio del Palazzo Merenda, la riqualificazione del redurbano di Via Safi e Filergiti, il consolidamento dell'ex asilo Santarelli e la correzione acustica del San Giacomo. Un altro progetto reso possibile da questo bando ministeriale è la messa in sicurezza delle facciate del Foro Boario. Un progetto di riqualificazione e restauro di tutta la facciata del Foro Boario e anche un intervento sul parco del Foro Boario. Quindi andremo ad aprire il parco del Foro Boario, renderlo più funzionale e accessibile a tutta la cittadinanza. L'assessore sottolinea inoltre che sono degli investimenti che senza questo bando delle aree degradate non sarebbero stati possibili perché non erano attualmente previsti nel piano degli investimenti comunali.